Trova questo governo e questa maggioranza che resisteranno, li trova stabili? Stabilità, veramente una parola grossa per questo governo. Più che instabile, questo è un governo immobile, è un governo che non va da nessuna parte, è un governo che rinvia i problemi che interessano alla gente, i problemi come l'IVA, l'IMU, l'acquisto degli F35, tutte tematiche rinviate. Per cui questo governo deve uscire all'immobilismo, cosa che non fa. Quello che noi diciamo è l'immobilismo, i cittadini non riescono più a sopportarlo e a questo punto crediamo che ci voglia un nuovo governo in grado di assumersi le responsabilità.